Stai già lavorando chiaramente anche sulla squadra ora che è arrivato l'allenatore, poi con lui cercare di costruire la squadra nuova, avete già previsto il ritiro, insomma sta ripartendo la macchina? Ma noi siamo in linea con i tempi, come l'anno scorso più o meno abbiamo presentato l'allenatore in questo periodo e poi siamo andati lì, c'eravamo la base a Pontremoli, quest'anno non si è potuto andare lì a Pontremoli perché devono fare dei lavori già abbiamo il ritiro che verrà illustrato fra pochi giorni, la macchina è partita, non è anche se magari qualcuno pensasse che eravamo in ritardo, non siamo in ritardo, siamo in perfetto programma Quest'anno il mercato sarà lunghissimo perché chiude il 2 settembre, per cui abbiamo voglia di essere infinito, anzi bisogna stare attenti, non avere fretta di fare delle scelte perché noi siamo contenti perché più o meno abbiamo una squadra con una certa impronta, con una certa 7-8 undicesimi ci stanno, per cui dobbiamo completarla e cercarla di migliorare però non è che dobbiamo fare grande cose, già abbiamo preso un portiere interessante, abbiamo preso un altro ragazzo, un attaccante interessante, giovani però abbiamo la base, l'ossatura, lo zoccolo duro rimarrà per cui bisogna ripartire e dimostrare che anche quest'anno dobbiamo cercare di migliorare perché il nostro obiettivo, l'ho detto l'anno scorso, in tre anni cercare di arrivare dove tutti quanti noi sogniamo Grazie